Ciao a tutti ragazzi, io sono Jay e oggi vi porto un nuovo gameplay di Ice The Horror Game Un gioco che può essere scaricato anche per il cellulare su Android, su Google Play e sull'App Store Vediamo Ok, ma non mi ricordo il comando per vedere lei che viene verso di me o qualcosa del genere Ok, per SM2S in the map si, ho capito Vabbè andiamo a sapere No, no, no Ok, ok, stavo già sopra, stavo già sopra, abbiamo capito Abbiamo capito, ok eccolo, sta qui, sta qui Maledetta schifosa Maledetta schifosa, vattene Bene Quanti sono queste stanze? Eccoci di nuovo, eccoci di nuovo Mamma mia Quattro, quattro, stiamo procedendo bene E fu così che lei mi venì a trovare Che lei mi venì a trovare Venì a trovare Venì a trovare Venì a trovare Nooo, 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 nooo Però prima, era Q, Q sta sopra, sta sopra, sta sopra, sta sopra Ah, addirittura 2 Attenzione, stiamo alla metà Siamo alla metà E tra po', penso, utilizzerò l'abilità Per vedere dove si trova questa fanciulla Sta arrivando? No, dove sta? No, no, nooo, nooo No No, 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 no Oh Oh Ok, 14, 14 No, 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 no No, 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 no Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Schifosa Che pizza Ah Lasciami respirare Ok, questo è questo libro Un inno a satana No 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 Eh no, di nuovo qua, no, dai Ora Se siamo forbi E se lei non bara Perché se ne è appena andata Se se ritorna qui È la fine Cassaforte Fanno i combination Cosa è successo? Cos'è? Cos'è? No Lei bara Era appena andata via 16 ragazzi 16 Ne mancano 4 Manteniamo la concentrazione E la calma assoluta Ok, ok Ora Se tu mi spunti Qui Ma questa stanza Ma Ma io vi chiedo Ma qui Non si capisce nulla Ci sono già andato qua Oddio Mori Ma una schifosa Ah No 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 Stronza Ok, ok Andiamo dall'altra parte Andiamo dall'altra parte Ah Dove sta? Dove sta? No No Run 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 Non è possibile andare sotto Dai Se questa qua controlla ogni 2 secondi Solo No Ok Te ne sei andata? Ok Possiamo andare Vai avanti avanti Ragazzi l'abilità No 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 Oddio Mamma mia che pro Pro viene Dove sta? Sta schifosa Andate so Poi Ora andate sopra Andate sopra Andate sopra Andate sopra Noi andiamo sotto Possiamo finirlo sul gioco Possiamo finirlo Però corri Va bene ragazzi Penso che L'episodio finisce qui Non siamo riusciti a completare Il gioco Anche se eravamo molto vicini Se vi è piaciuto il video Lasciate un mi piace Un commento E mi raccomando Iscrivetevi al canale E Ricordatevi Io sono Jay E Bella Annette 3 Per